Eppure io dico di lui, io dico di lui che non ci sta rispondendo, non ci sta neppure niente. E non sto dicendo, siamo qui, ragazzo, non sono bello, solo per fare una maniera spagnata. E forse questa cosa è pure un po' di conto. E tu non mi hai detto che si sapeva di quando va? E che cosa vuoi? Io non ti ha detto. Non lo so, io sto bene, ma se... C'è una cosa perché non ci sto so, io non lo so, io non lo so. Lo vorrei dire perché mi hai fatto capire che sei che la lei, non quello che non avrebbe fatti essere. E magari con il gioco del sacco, si mette in prima fila, ad applaudire che faccio negli anni. Non sarebbe bello così. Vabbè, però oggi abbiamo parlato abbastanza. I ragazzi del primo corso alla sbarra e pure del secondo a provare l'allenu che abbiamo montato ieri. Braccio di alto. Questa scena ve la risparmio. E questo scemo figlio e lo ammazza uno per essere lui capo. Questa scena ve la risparmio, non c'è la risposta. E questo scemo figlio. Questa scena ve la risposta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.